Ciao, sai che in Puglia informa come prenotare il vaccino anti-covid a Castellana Grotte. Il vaccino anti-covid per le persone fragili. Il vostro medico curante ha un elenco dei propri pazienti fragili. Vi contatterà e vi prenoterà al Pala Valeditria nei pressi della piscina comunale. Non importa l'anno della nascita e la fragilità che conta, comunque lo stabilisce il vostro medico curante. Per tutti gli altri basta presentarsi nelle farmacie e parafarmacie abilitate al servizio farmacù con la tessera sanitaria. La prenotazione avviene in base all'anno di nascita. Inoltre contiene la data e l'ora della vaccinazione che a sua volta avviene al centro polivalente nei pressi del campo sportivo ad Alberobello. Prima di presentarsi all'appuntamento è opportuno stampare e compilare il consenso alla vaccinazione. È un documento di più pagine con i dati di chi fa il vaccino. Inoltre informa le eventuali reazioni che può provocare il vaccino dopo l'assunzione e altre informazioni inerenti alla vaccinazione. Questo documento si può scaricare dal sito della regione Puglia www.sanita.puglia.it oppure recandovi presso quelle attività che offrono il servizio di fotocopie richiedendo questo tipo di documento. Per qualsiasi informazione, dubbi o perplessità riguardante la prenotazione del vostro vaccino rivolgetevi direttamente al vostro medico curante. Da Castellana Grotte è tutto, buona salute da me, Valeria Roseva, e da tutto lo staff di SciK in Puglia Web TV.